amici amici appassionati di moto e di moto mondiale bentornati a un'altra diretta di moto punto it qualifiche del gran premium di Aragon le commentiamo assieme a Lucio Cecchinello Lucio buonasera ciao buonasera ciao Lucio grazie di essere mio ospite allora quando io in settimana ho fatto così i miei conti ho detto su chi invitare vediamo un po' ho detto invito voglio invitare Lucio Cecchinello perché sono sicuro che dopo le qualifiche parleremo di Nakagami e Alex Marquez in prima massimo seconda fila invece è andato un po' diversamente insomma no per dire questo che comunque pensavo che qui la Honda e la vostra squadra potesse essere molto competitiva non è così Lucio? Purtroppo purtroppo non è così non siamo non siamo stati in grado di trovare la migliore messa a punto tra l'altro quello che ci rincresce un po' il fatto che Nakagami lo scorso anno con la moto del 2019 qua aveva girato in 46.8 aveva fatto la pole position in 46.8 e quest'anno è riuscito a fare un 47.1 47.3 ha fatto 47.1 nelle libere e poi dopo ha fatto un 47.3 quindi diciamo che sì siamo siamo non ci aspettavamo questo risultato speravamo meglio ma scusami Lucio cosa significa questo che la moto di quest'anno è peggio di quella dell'anno scorso che o che cosa guarda è difficile anche per noi trovare una spiegazione ti posso solo dire che analizzando i dati di quei tre decimi che mancano quello che è evidente è che perdiamo un po' nell'accelerazione perché siamo un più lenti a fare il pick up della moto ci sono un paio di curve dove Nakagami riusciva a sfruttare di più l'accelerazione con la moto che utilizzava lo scorso anno quindi la 2019 e riusciva a fare un po' meglio il pick up e aveva proprio questa tendenza a riuscire a fare meglio il pick up quest'anno fa un po' più fatica a fare il pick up nonostante comunque il motore di quest'anno sia più performante della moto del motore del 2019 ma è quindi una questione di ciclistica mi viene da dire andando per esclusione guarda ci sono ci sono diversi fattori potrebbero essere può essere sicuramente può essere la ciclistica possono essere le sospensioni può essere il come lavorano le sospensioni quindi anche proprio tutto il sistema del leveraggio e ti direi ti direi anche un po' forse la caratteristica del motore potrebbe anche essere quella la caratteristica del motore quindi motore elettronica per cui ti posso dire che gli ingegneri hanno proprio finito di lavorare poco fa e domani proveremo un setup di elettronica differente ecco lucio c'è una domanda di fabio che ti chiede è vero che onda sta cercando di offrire ad ognuno dei quattro piloti una moto adatta loro portando quindi quattro moto differenti ma in realtà onda cerca di standardizzare ovviamente per per ovvie ragioni di di semplicità di condivisione di dati di informazioni di fabbricazione di pezzi però la cosa positiva è che loro hanno portato diversi telai quest'anno e diverse altre parti della ciclistica e non hanno mai forzato nessun pilota a dover utilizzare per forza lo stesso telaio per esempio che usa Mar Marquez e quindi ci hanno dato la possibilità di costumizzare la moto per per il nostro pilota al momento attuale però ti posso dire che io non so non ho gli ultimi aggiornamenti dei telai che vengono utilizzati all'interno del box Repsol posso dire che da noi utilizziamo utilizziamo due telai di seconda generazione 2021 e utilizziamo le stesse le stesse sospensioni anteriori mentre invece fra Nakagami e Marquez c'è una piccola differenza sulla sospensione posteriore la sospensione posteriore di Nakagami è una sospensione posteriore di un modello leggermente differente con un dumping interno leggermente differente e che Nakagami si trova meglio invece Marquez non la utilizza perché l'ha provata però non si è trovato meglio quindi diciamo che comunque la Honda avrebbe piacere che tutti quanti potessero utilizzare gli stessi telai però in questo momento dà la possibilità di usare telai diversi credo credo che tra Marquez e Paul Spargarò utilizzano due telai diversi assolutamente sì perché l'hanno detto anche loro oggi l'hanno detto proprio specificatamente i due piloti quindi quindi confermo e anche due carrenature differenti e oggi Marquez ha spiegato che Paul Spargarò sta utilizzando una nuova carrenatura che lui aveva provato in Austria a lui non era piaciuto molto mentre a Paul Spargarò dà sensazioni positive poi però ho aggiunto ma le sensazioni contano poco conta il tempo sul giro insomma a me è sembrato che gli avesse dato una piccola bastonata questa è una mia opinione però insomma questo per dire che comunque HRC sta facendo tanto sta lavorando tanto però Lucio con tutte queste differenze è possibile confrontare i dati tra una moto e l'altra ricavare dei dati che poi possono essere messi tutti assieme per una strada univoca? È possibile però è più complesso è più complicato ci sono pensa in HRC ci sono un gruppo di ingegneri che li chiamano performance engineers che sostanzialmente sono quei ragazzi giovani tra l'altro ce ne sono di giapponesi ce ne sono anche di italiani di spagnoli con la maglietta alla polo dell'HRC e che sono fanno una vita devo dire pessima perché sono sempre nascosti dentro il camion davanti ai computer e loro sono i cosiddetti performance engineer e loro analizzano tutti i dati di tutti i piloti e hanno dei sistemi di studio che chiamano big data ovvero utilizzano dei software particolari che hanno la possibilità di poter confrontare e capire quali sono i particolari pezzi più performanti diciamo facendo un'analisi complessiva di quello che accade però non stiamo raccontando niente di diciamo di nuovo perché anche le altre case costruttrici fanno lo stesso probabilmente Honda ha qualche ingegnere in più perché ce ne sono davvero tanti ma lucio quanti anni è che corri con la Honda dal 96 giusto in moto in realtà in realtà in 2006 dal 2006 dal 2006 il team è nato dal 96 abbiamo corso con la Honda sempre ad eccezione dal 96 in 25 anni ad eccezione tra il 2001 il 2005 che abbiamo corso con la Honda ecco no però il moto CP dal 2006 con la Honda ecco in tutti questi anni questo è l'anno più complicato per la Honda secondo te dal punto di vista tecnico allora io non voglio parlare di un anno complicato per la Honda io voglio parlare piuttosto di un anno in cui per una serie di fattori probabilmente gli altri i competitor sono andati più avanti rispetto a Honda non dimentichiamoci che Marquez nel 2020 inizio 2020 quando alla gara Gerez si è fatto male con quella moto in quella configurazione lui dava in secondo tutti se non gira tutti ci ricordiamo la rimonta che ha fatto le rimonte che stava facendo per cui devo dire che quella base di quella moto era un'ottima base ed era considerata un'ottima base per cui quando lui si è fatto male probabilmente non è più non c'è più stata quell'esigenza di dover fare dei cambiamenti importanti e fare uno sviluppo molto molto diciamo importante perché comunque quella base era un'ottima base e quindi devo dire che l'assenza di Marquez forse l'assenza di Marquez ha creato un po' una situazione non dico di stallo ma quantomeno di minor pressione nel sviluppare la moto poi quando Marquez è tornato devo dire che a mio avviso Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha stessa hanno fatto degli step in avanti importanti e quando Mark è tornato un po' la sua situazione fisica doveva essere ripresa un po' la onda che ha anche cambiato i piloti perché comunque comunque è arrivato Paul Espargaro, Alex l'hanno spostato da noi e hanno dovuto tutto ricominciare Nakagami bravo però ha sempre usato la moto della la moto vecchia dell'anno prima per cui insomma è dovuto ripartire un po' tutto insomma ci siamo ritrovati un po' dove adesso dobbiamo fare un punto a capo e ripartire ripartire con arrotolandosi le maniche per da qui in avanti e soprattutto tutto l'inverno. Ecco Marco ti chiede la onda sembra ancora indietro come sviluppo perché solo a metà 2021 si è deciso di lavorare per i piloti e non esclusivamente per Markets questa è la domanda di Marco è una domanda che la posso capire perché vista vista da fuori può essere può essere compresa così però in realtà posso garantire che non è così Honda ha sempre portato avanti lo sviluppo della moto facendo degli interventi più o meno radicali impegnandosi molto nel dare l'opportunità di provare queste parti evoluzione anche a Cal piuttosto che lo scorso anno ad Alex con Brad l'hanno fatto tanto sviluppo per cui ti dico non è propriamente vero che la moto era stata sviluppata diciamo che prima prima la moto è chiaro avevano un pilota che vinceva i mondiali ed è chiaro che ascolti il pilota che vince i mondiali non è che devi per forza andare a lavorare in altre direzioni però la Honda ha sempre ha sempre detto che il suo obiettivo era quello di rendere la moto più facile da guidare non a caso infatti hanno portato avanti lo sviluppo anche loro del motore in configurazione big bang hanno portato avanti anche loro lo sviluppo del motore in configurazione contro rotante che sono tutte situazioni dove dove migliori molto l'utilizzo della moto per cui diciamo che sono d'accordo parzialmente sul fatto che che ha lavorato solo per Marquez ok senti Lucio nel 2020 nei test a Misano c'era stata un po' una svolta soprattutto per Alex Marquez che aveva trovato una messa a punto che poi aveva permesso di fare il podio proprio qui ad Aragol sull'asciutto e il podio sul bagnato aleman dopo la gara di Misano martedì e mercoledì ci saranno due giorni di test e oggi Marquez ha detto che addirittura spera di provare già il nuovo motore il primo prototipo del motore configurazione 2022 ecco possono essere veramente decisivi questi test come loro erano stati l'anno scorso per Honda naturalmente sono sono test importanti perché è proprio nel mese di settembre che normalmente la Honda in funzione del fatto che le moto devono essere pronte per gennaio perché considera che a metà gennaio le moto devono partire per la Malesia è proprio entro la fine di settembre che Honda si si mette in programma di produrre i materiali 2022 quindi è un test molto importante è un test dove ci auguriamo tutti ci siano delle indicazioni chiare sul fatto che si è fatto uno step in avanti e quindi verrà messa in produzione poi tutto il materiale per per entro gennaio perché non è che una moto la produci così in qualche giorno ci sono centinaia di fornitori che devono lavorare sulla produzione dei componenti ecco invece Alex Marchez perché è così in difficoltà in generale in questa stagione secondo te Lucio è una domanda che ci poniamo anche noi dobbiamo probabilmente fare anche noi un'autocritica io l'ho sempre detto sin dall'inizio se Alex quest'anno non riuscirà a fare nemmeno un podio visto che lo scorso anno all'anno del suo debutto ne ha fatti due nella squadra Repsol vuol dire che dobbiamo anche fare una riflessione interna noi è una probabile autocritica nel senso che probabilmente non siamo all'altezza noi di riuscire a dargli una moto che lui possa guidare al meglio vi posso garantire che ci stiamo impegnando molto vi posso garantire che c'è la volontà anche di consolidare lo staff tecnico per l'anno prossimo implementare lo nostro staff tecnico per la prossima stagione però in questo momento la MotoGP diventata talmente complessa e talmente tirata dove in realtà Alex Marchez sta facendo dei tempi su giro migliori di quelli che faceva l'anno scorso però è 5-6 posizioni indietro rispetto all'anno scorso e questo è il vero problema e il vero problema che gli altri hanno migliorato di più e probabilmente anche noi non siamo ancora in grado di di aver capito che cosa ha bisogno Alex per per andare forte ecco chiedo a Luciano Lombardi che come sempre mi assiste in regia se può mettere in sovraimpressione la classifica delle qualifiche in pole position c'è Pecco Bagnaglia con lo strepitoso tempo di 1.46.302 mai nessuno era andato così forte con una moto qui ad Aragon 366 più veloce di Jack Miller e 397 millesimi più veloce di Fabio Quartararo quindi due Ducati e una Yamaha in prima fila in prima fila in seconda fila abbiamo Mark Marchez staccato di 414 millesimi con Orghe Martin e Aleish e Spargaro con Aprilia terza fila Lassu Giucchi di John Mir con Paul Spargaro ottavo e Nea Bastianini bravissimo nono quindi in quarta fila Zarco Nakagami e Binder quindi nei primi 12 abbiamo comunque tutte e sei le case Alex Marchez è quattordicesimo Danilo Pezzucci sedicesimo Luca Marini diciassettesimo Vignales con Aprilia diciannovesimo e Valentino Rossi ventunesimo allora eh Lucio io nel titolo avevo messo lo vado a riprendere perché sono già stato subito cazziato da un lettore e io avevo ho scritto una roba se non mi ricordo nel dettaglio ah ce l'abbiamo scritto qua Bagnaglia favorito ma attenti a Markets e 5 i5 ha scritto eh nelle FP4 erano in tre a girare in 48 basso e c'era anche Quartararo perché allora nel titolo si parla solo di Bagnaglia e Mark Marchez a parte che il titolo deve essere una sintesi e non possiamo mettere le centeroi ma al di là di questo lo stesso Quartararo ha detto non ho il passo per giocare il podio almeno per il momento eh tu come lo vedi Bagnaglia Marchez facciamo un po' un quadro generale ehm allora eh dico la verità eh pochi giorni fa vedevo ehm favorito Quartararo Miller e Mir con un Marquez in in possibile quarta posizione devo dire che in questo momento vedo non mi aspettavo Bagnaglia così veloce posso dirti che eh da quello che abbiamo visto oggi nell'FP4 però Mark con le gomme usate ha un passo molto buono spaventura assolutamente ha un passo molto buono ehm c'è anche da dire che gli Ducati ricordiamoci che gli Ducati hanno un vantaggio ehm un po' superiore alla media sul tempo sul giro quando devono fare il giro secco sulle prove perché hanno il sistema di abbassamento della moto che funziona molto bene riescono ad attivarlo un po' prima di noi riescono ad abbassare la moto un po' meglio un po' di più della nostra eh hanno un motore probabilmente anche leggermente più potente ma devono rinunciare a un po' di prestazione durante la gara per finire la gara perché sennò consumerebbero troppo quindi devo dire che molte volte temponi che fa la Ducati poi dopo in gara si stabilizzano un po' Honda invece è una moto un po' più ehm diciamo meno estrema dal punto di vista del del giro secco ed è una moto ben bilanciata anche in termini di consumo in termini di gestione dei pneumatici quindi mi aspetto sicuramente una bella lotta tra Miller, Bagnaia, Quartanaro ma io ti direi che ci sarà anche Mark Marquez ma eh può vincere Mark Marquez secondo te? è riuscito a fare delle cose eccezionali, imprevedibili ti direi ti direi che come vedrei un po' più un po' più favorito per la vittoria e vedi un po' più Quarta Raro ah addirittura quindi non ci credi quando lui dice che in questo momento non ha il passo per salire sul podio e quindi dai ragione al lettore che mi ha cazziato prima no Quartararò secondo me domani farà una bella gara, è vero che i Ducati sono velocissimi però ti ripeto lo setup pronti via di gara è una moto molto bilanciata, Quartararò è in splendida forma, è vero anche che visto che c'è un mondiale di mezzo potrebbe accontentarsi e quindi chi potrebbe approfittarne potrebbe essere veramente Marquez piuttosto che Bagnaia che ha una gran voglia di fare dei risultati Lucio quanto siamo qui tutti che attendiamo la prima vittoria di Bagnaia perché insomma quest'anno in più occasioni è stato protagonista ed è partito come favorito, poi per diversi motivi sbagli suoi le gomme sbagli tattici insomma non ha vinto allora quanto è importante per uno come Bagnaia vincere come per tutti i piloti cioè voglio dire quando tu hai vinto il primo Gran Premio hai cambiato? Sei diventato un altro cecchinello? Ma guarda è strano quello che succede perché quando vinci un Gran Premio acquisisci ancora una maggiore sicurezza che questa sicurezza si trasforma in una in più energia che rilasci in pista ancora un livello di concentrazione ancora più alto perché hai la consapevolezza definitiva provata del fatto che tu sei riuscito a vincere sei uno di quelli che possono vincere e quindi ti fai un ulteriore step ed è per questo che ti dico noi speravamo tanto che il nostro Nakagami riuscisse a fare almeno un podio quest'anno perché l'anno scorso ci è andato vicino molte volte anche quest'anno con dei quarti posti e purtroppo purtroppo non ci è riuscito però secondo me Nakagami è un altro che quando riesce ad andare sul podio farà uno step può andare sul podio domani Nakagami? non credo almeno vedere il passo non credo non credo che abbiamo il passo abbiamo un passo che può stare lì con i primi 5-6 quello sì quello sì perché tieni presente che il tempo in qualifica lui purtroppo ha fatto il giro di rientro in pista con la seconda sette climatici un po' troppo lento e per tre secondi ha preso la bandiera non è riuscito a fare un secondo giro se faceva un secondo giro secondo me un 47-1 un 47-0 lo faceva poteva partire nei primi 7-8 ok senti tornando invece a Bagnaia a te è capitato di sfiorare tante volte la vittoria e di non riuscire mai a conquistarla e vuol dire come ti senti il pilota ha questa frenesia dentro che deve vincere a tutti i costi o no diciamo che il podio è sempre qualche cosa di importante che dà comunque un grande livello di soddisfazione al pilota però la vittoria è un'altra cosa la vittoria è un'altra cosa e Bagnaia lo sa perché comunque ha vinto un sacco di gare mondiale ha vinto un mondiale ma ha vinto un sacco di gare quindi lui sa proprio esattamente che cos'è cosa può portare la vittoria questa pole position ha dimostrato ancora una volta che è un pilota velocissimo poi è giovane secondo me se la Ducati anche se non dovesse vincere adesso la Ducati a mio avviso se lo terrà stretto perché è italiano è un bel ragazzo comunica bene è bravo si comporta bene penso che ha tutte le caratteristiche per essere un pilota Ducati che può vincere in futuro e di Olga e Martin cosa pensi ricordiamo che Martin domani parte a fianco di Mark Markets i due diciamo che sono reduci da un piccolo contattino a Silverstone come lo vedi Martin e come vedi la partenza allora c'è da dire che la prima curva per fortuna è abbastanza larga la prima seconda curva è abbastanza larga non ci si trova un tornantino stretto una curva stretta quindi la partenza se non dovesse essere una partenza perfetta per Martin piuttosto che per Markets non credo sia un problema insormontabile questa è una pista abbastanza larga che offre anche dei sorpassi soprattutto i primi giri un gatto come Markets si infila dappertutto poi ti dico Martin però è anche vero che in gara è sempre riuscito a fare delle grandi cose quando è in palla per cui Martin è un altro che può essere nei primi 4-5 ma in un caso così scusami Lucio quando tu parti due settimane dopo aver preso una sportellata parti con quel pensiero lì e dici adesso gliela li do o no che Martin insomma è uno abbastanza focoso anche sai cosa c'è di bello che una volta posso dirti che quando c'erano dei top rider i piloti giovani avevano quasi come un rispetto un timore o quasi un referenziale nei confronti dei top adesso invece arrivano dei giovani e proprio si infilano dentro si divertono capito si divertono e se va bene va bene se va male non è un problema tornano al box e sorridono capito e quindi stanno cambiando un po' i ruoli io mi ricordo insomma Valentino Rossi era Valentino Rossi prima che lui ricevesse qualche sportellata è dovuto arrivare uno come Stoner prima per lui di ricevere delle sportellate capito perché di solito era lui che era l'acqua e quindi adesso anche Marquez probabilmente deve cominciare a fare i conti anche con una nuova generazione di piloti che ci hanno tra l'altro come ha detto anche oggi Orge Lorenzo che Lorenzo è tornato in circuito molto rilassato molto sereno un filo sovrappeso rispetto a quando faceva il pilota ma è giusto che sia così comunque lui dice Marquez anche quando tornerà in forma come lo era prima sperando che possa tornare al 100% comunque troverà degli avversari più consapevoli delle loro possibilità e più consce di poterlo battere è così? sei d'accordo? sì assolutamente assolutamente sono assolutamente d'accordo mi trovo in linea ed è quello che ho detto io assolutamente è un po' l'evoluzione dello sport che stiamo vivendo ed è anche bello così è la MotoGP assolutamente voglio chiedere una tua opinione su Maverick Vignales Vignales è diciannovesimo ha girato in 1.47.7.6.4 quindi è molto indietro come come posizione in classifica però nei giorni ovviamente è migliorato tantissimo e insomma io vedo un Vignales comunque che può essere competitivo con questa moto non in questa gara ma in futuro guarda io dico sempre che i piloti che crescono su una moto che ha una configurazione del motore quattro cilindri in linea che tendenzialmente è una moto che ha un po' meno di prestazione in termini di velocità massima ma è più pastosa è più regolare gira meglio riesce ad aprire il gas prima e quindi questi piloti si possono permettere di sviluppare il loro stile di guida in maniera molto più diciamo pulita mentre invece i piloti che salgono su una moto configurazione V possono contare su una prestazione di motore leggermente superiore però una moto che va forzata un po' di più per farla girare e una moto anche magari un po' più difficile all'apertura del gas quindi con una curva di coppia un po' diversa quindi secondo me Vinales ha proprio bisogno di tempo per cercare di interpretare di capire come devi guidare una moto non l'Aprilia ma come devi guidare una moto in configurazione a V ed è vero perché guarda anche Jorge Lorenzo è sceso dalla Yamaha è sceso dalla Yamaha e è andato sulla Ducati ci ha messo del tempo per arrivare ad essere l'Orgue Lorenzo che vinceva le gare con la Ducati ma tu te lo aspettavi comunque più veloce Vinales o è in linea come tu no 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 assolutamente io non me lo aspettavo più veloce anzi lo avevo detto in qualche altro intervisto ho detto secondo me si ritroverà a navigare dal quindicesimo posto in giù e ci vorrà del tempo prima di che riuscire a prendersi le misure bene interessante senti Lucio l'argomento so che è molto delicato ma dobbiamo affrontarlo c'è un problema gomma in MotoGP guarda la verità è che la Michelin ha fatto un posteriore con una costruzione differente che effettivamente ad alcune case costruttrici per come è configurata la moto non ha creato problemi a noi ha creato forse un po' più di problemi in termini di grip sull'angolo massimo e anche grip anche proprio in termini di minore slip diciamo che anche per tornare al discorso di prima perché Nakagami non va c'è anche un discorso di non riesce a fare le prestazioni dello scorso anno può essere anche dietro nascosto un discorso di gomme cioè che quella gomma Michelin che abbiamo adesso non è una gomma che è adatta al nostro pacchetto ciclistica ammortizzatore forcellone e erogazione motore ok invece tornando ai pronostici settimana prossima vedremo Dovizioso debuttare sulla Yamaha allora di Vignale sei detto che te lo aspettavi dalla quindicesima posizione in giù e ci hai preso di Dovizioso cosa ti aspetti ricordiamo che avrà una Yamaha 2019 bravissimo infatti io mi aspetto che Dovizioso farà meno fatica di Vinales a riprendere il ritmo perché la Yamaha è una moto più più facile se vogliamo se tu guardi tutti i debutanti che salgono su una moto con quattro cilindri in linea quindi ti parlo di Yamaha Suzuki fanno meno fatica rispetto agli altri quindi secondo me è un Dovizioso ovviamente alle prime prove forse alla prima gara farà un po' fatica però poi dopo secondo me lo vedremo più avanti di Vinales in classifica più avanti di Vinales in classifica che grande Lucio bello questo questo pronostico secco mi piace molto ma lui è fermo dall'anno scorso è vero che ha fatto dei test con l'Aprilia è vero che ha super allenato con il motocross ma insomma abbiamo visto quanto è difficile adesso la MotoGP quello quanto incide quello stare fermo lì e tornare a campionato in corso significa qualche decimo di secondo che nella MotoGP di oggi qualche decimo di secondo è tanto considera che uno come dovizioso comunque con tutta l'esperienza che ha secondo me avrà bisogno di tre gare prima di riprenderci un po' il ritmo però tre gare un test considera anche che ci sarà il test a Misano e tutto lui secondo me arriva insomma a Portimao Valencia le farà la grande ecco tra l'altro ricordo che è arrivata proprio oggi la comunicazione ufficiale della conferma del finale di campionato quindi dopo Argo naturalmente si va a Misano è confermato il Gran Premio degli Stati Uniti poi si torna a Misano quindi Portogallo e Valencia quindi questo è sicuramente una buona notizia anche se purtroppo negli Stati Uniti la situazione non è così favorevole a causa del solito maledetto Covid allora Lucio andiamo un attimo velocemente a vedere la classifica della Moto 2 perché davanti a tutti c'è Sam Lowes davanti a Remy Gardner e Raul Fernandez ricordo che Raul Fernandez è stato operato a un dito perché si era infortunato con la bicicletta quindi una grande prestazione la sua gli italiani il più forte il più veloce è stato di Gian Antonio di Gian Antonio ottavo con Bezzecchi nono Gardner l'anno prossimo sarà in MotoGP Raul Fernandez sarà in MotoGP sarà in MotoGP anche Bezzecchi anche se non è ancora stato confermato come li vedi questi piloti in MotoGP Lucio? guarda io penso che avranno bisogno di un po' di tempo considera che i primi test invernali per loro sarà uno shock come è stato per tutti i piloti che dalla Moto2 arrivano alla MotoGP onestamente tra tutti non lo so perché ma mi aspetto un Gardner che magari le butterà in terra un po' di moto però mi aspetto un Gardner un po' più vivace rispetto in termini dei risultati rispetto agli altri siamo in sintonia perché anch'io sono un grande estimatore di Remy Gardner andiamo a vedere la Moto3 invece in Moto3 davanti a tutti c'è Darren Binder con Rodrigo II e Suzuki III Suzuki che ricordo nel 2023 correrà con il team Leopard migliore degli italiani Migno Quinto Antonelli VIII proprio davanti ad Acosta poi abbiamo Foggia XIV e Fenati solo diciassettesimo chi ti piace in Moto3 facile dire a Costa ma facile dire a Costa facile dire a Costa sono amico del papà e da tanto tempo perché correvamo insieme mi guardo sempre con grande interesse e piacere quando fa bene Niccolò Antonelli anche se mi rendo conto che non è una categoria facile la Moto3 e quindi mi dispiace talvolta che insomma non riuscirò a vedere più regolarmente sul podio ecco di Acosta riporto una frase che ha detto oggi Lorenzo ha detto io non conoscevo Acosta ha raccontato oggi l'ho conosciuto ieri sera perché il manager di Acosta è lo stesso manager di Orge Lorenzo che è Alberto Valera bravissimo perché negli ultimi anni devo dire che ha avuto una serie di campioni impressionanti ecco quello che raccontava Lorenzo dice quello che mi ha colpito di questo ragazzo è la suo pensiero fisso alla vittoria lui ha detto come ce l'avevo io come ce l'aveva Stone come ce l'aveva Rossi come ce l'aveva Marquez insomma l'ha paragonato ai grandissimi dell'ultimo periodo a me viene la pelle d'occa solo a dirlo non so adesso se Acosta a quell'età lì è capace poi di sopportare tutto quello che succederà attorno a lui sono d'accordo con te è anche vero che è proprio la differenza che c'è tra i bravi piloti bravissimi piloti e i grandi campioni e quindi lo vedremo nel breve periodo in questo momento però ti posso dire che sono d'accordissimo con Jorge ovvero cioè se vuoi diventare un grande campione tu devi solamente pensare a vincere solamente alla moto alle gare e alla vittoria e non ti devi accontentare del secondo posto ed è quello che fa che crea la mentalità foro dei piloti ai grandi piloti sembra sembra facile ma non è così scontato giusto perché tutti dicono vogliono vincere però l'attitudine è diversa assolutamente però l'attitudine da ignorante questo ragazzo qui ce l'ha perché basta guardarlo in faccia e non vedi che è un bello tosto allora siamo in chiusura Lucio dai fai il pronostico per domani MotoGP sbilanciati per il fatto che mi piacerebbe che vincesse un italiano ti dico bagnaia per il fatto che io corro con la Honda che noi siamo Honda mi piacerebbe avere sul podio Marquez e magari sperare che un Quartararo si rilassi un attimo e pensi al campionato e quindi che sei contenti del terzo posto bene va bene quindi questo il pronostico di Lucio Cecchinello domani sera alle 20.45 diretta con vediamo se indovini un un ex pilota che ha corso con la Guzzi è un grande concessionario Guzzi insomma l'ho detto tutto dai l'ho detto tutto è Guareschi allora per il momento solo Gianfranco ma vediamo se ne riesco a tirare dentro anche Vito così che sarebbe una bella copia io ringrazio tantissimo Luciano Lombardi in regia ringrazio moto.it per tutto quello che fa per il motociclismo secondo me e ringrazio soprattutto Lucio Cecchinello per la sua grandissima disponibilità grazie Lucio e buonasera ciao ciao Lucio in bocca al lupo ciao ciao grazie 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 a tutti grazie a tutti